Come sempre interesse, curiosità e apprezzamento per il mercato contadino in Viale delle Palme ad Arco, la cui edizione 2017 è stata inaugurata nella mattinata di oggi alla presenza del vice sindaco Bresciani e dell'assessora Maria Luisa Tavernini e per col diretti di Ivana Nave. Il mercato contadino di Arco è fortemente evoluto dall'amministrazione comunale per promuovere la filiera corta e quindi il contatto diretto tra produttore e consumatore. D'ora in poi sarà presente il mercato contadino tutti i martedì dalle 7.30 alle 13.30.